Volevo dare alcune informazioni che spero possano essere utili. C'è qualcuno di voi che deve effettuare delle visite o degli esami qui all'interno della struttura? Sì. Ecco, purtroppo sono state rimandate, la struttura è stata chiusa, come vedete. È meglio che ritorniate a casa o dove dovete andare, perché attualmente non è possibile effettuare le visite. La situazione è cambiata e quindi le porte dell'ordine non faranno entrare nessuno fino a quando non sarà risolta la crisi. Per quanto riguarda il personale che deve prendere servizio, allo stesso modo non potrà entrare all'interno della struttura. Quindi iniziamo a far decluire queste persone, vi informeremo successivamente, l'ASL vi informerà successivamente. Viva l'ospedale di Torsona! Viva! Signori, si è verificata una situazione di emergenza, non ha nulla a che vedere con quello che abbiate potuto leggere nei giornali ieri. È una situazione di emergenza successiva e non correlata. Quindi chi deve effettuare le visite si recchia a casa, il personale attualmente si recchia a casa e verrà in seguito convocato. Grazie!